6, 10, 10, 10, 10, 10 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 5 cento passi, 1, 2, 3, 4 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 cento passi. Minha padre, la mia famiglia! Minha padre, mi viene chiamato! Vai dare voci! Senti, Francesco. Sono un uesco. Amici e amiche carissime di Guagliano, buonasera, vi ringrazio di essere venuti, nonostante il freddo della sera che è certamente anche maggiore dell'altra volta, però questa sera noi vogliamo proporvi qualche problema tecnico, ma insomma si risolve senza altro. Questa sera noi mettiamo un po' in evidenza quello che è il nostro programma, il programma del cantiere democratico, io l'altra volta vi avrei parlato con dovizi di particolari del programma, certamente questa sera noi lo sfrutteremo in maniera maggiore cercando di non tediarvi abbastanza. Ecco, abbiamo pensato che uno studio, tra l'altro nemmeno così poi tanto approfondito, ci mette in evidenza che due sono gli elementi su cui poggeremo il nostro programma di governo. Il primo sono due macro obiettivo fondamentalmente, il primo è quello economico e non potrebbe essere diversamente, visto le condizioni e le situazioni in cui versano i nostri paesi del sud e nella fattispecie il nostro paese. Quindi il primo macro obiettivo è quello economico e il secondo, non meno importante, quello del miglioramento della qualità dell'ambiente. Ecco, noi un rapidissimo accetto, abbiamo pensato di utilizzare questa performance e di utilizzare un avio visivo perché possa essere visto, possa essere più visibile, possa essere più seguito. Ecco, ciò su cui abbiamo poggiato fondamentalmente il nostro programma economico è questo. Fare leva soprattutto su quello che sono le risorse che la comunità europea, di rimando anche la nostra regione Puglia, ha nei riguardi delle amministrazioni locali per quanto riguarda i progetti di sviluppo. I progetti di sviluppo regionali hanno una funzione fondamentale ed è quella di poter supportare tramite progetti ben fatti, regolarmente ben articolati, dicevo di poter supportare quelle che sono le possibilità economiche di sviluppo e le progettualità che investono una comunità cittadina. Ma attraverso questi progetti noi pensiamo di poter utilizzare questi fondi che consentiranno ad un Paese, ahimè, nelle condizioni economiche in cui si trova Guagnano, abbastanza disastrante, dicevo di poter utilizzare poche cose, certamente, però che abbiano una continuità e un'importanza notevole. L'uso sostenibile delle risorse ci consente di poter portare avanti questa progettualità che voi vedete nello slide che vi mettiamo in evidenza. Il primo è quello del rilancio del settore dell'agricoltura, non sfondo una porta aperta, scusate, perché certamente è la vocazione naturale che i nostri concittadini e che il nostro Paese ha. Come vogliamo articolarla? Vogliamo articolarla in questo senso. Intanto bisogna incrementare le fonti di reddito aumentando l'occupazione. Come si fa a aumentare l'occupazione? Come è possibile invertire questa sorta di esodo dei giovani, delle risorse umane, ahimè, anche delle famiglie in toto? Questo è possibile farlo andando a monte del problema, cercando di dare visibilità ai nostri prodotti. Ripeto, non sono cose nuove che vi dicono, ma una cosa importante è proprio invertire questo trend di decrescita che noi abbiamo. Se il nostro Paese ha determinato nel corso di questi anni, nel corso dei secoli, forse, una produzione agricola che ha incrementato soltanto le tasche dei grossi industriali del vino, oggi abbiamo la possibilità di fare di questo prodotto l'oggetto della nostra attività più importante. Noi dobbiamo assolutamente cercare di dare un vestito al nostro prodotto, di dare un marketing, di fare un modo che il nostro prodotto possa essere visibile, possa rimanere negli scaffali, possa essere fatto oggetto dell'attenzione dei più. E quindi la valorizzazione dei prodotti tipici, del vino e dell'olio, ma permettetemi anche di dirvi anche delle altre colture, diciamo così, complementarie o forse anche alternative, che non sono assolutamente da meno. Parlo per esempio della frutta, parlo degli urtacci. La creazione delle reti di collegamento è fondamentale, perché questo ci consente di poter allargare questa rete di mercato che noi vogliamo realizzare, utilizzando le persone che sono lontane da noi. Più volte è capitato, anche a noi personalmente, di poter portare il nostro prodotto, come l'olio per esempio, in altre zone d'Italia, anche fuori all'estero, avendo rapporti commerciali molto semplici, con persone che erano qui del paese e che poi sono emigrate fuori. La possibilità di questo rapporto, di questo interfacciarci, anche attraverso le vie di comunicazione più semplici, quale può essere il telefono o internet ancora meglio, poi lo vedremo dopo questo aspetto. Questo ci consente di poter realizzare una rete via via, fitta e capitale di mercato, che consente al nostro prodotto non di rimanere qui ma di andare oltre. E poi, permettetemi di dirvelo, un po' un fiore all'occhiello che potrebbe essere, anzi, lo è, non uso il condizionale, sono le aziende agrituristiche. Noi dobbiamo imparare a valorizzare il nostro territorio e a vendere il nostro territorio. Vorrei essere capito meglio quando parlo di vendere il nostro territorio. Noi dobbiamo fare in modo, come abbiamo accenato anche l'altra volta, come in altri paesi dell'Italia, certamente non abbiamo la stessa dimensione culturale e non abbiamo ancora i mail dello stesso retroterra socioculturale, parlo della Toscana, parlo delle Marche, parlo del pubblico, eccetera. Ma il nostro territorio può essere preso in considerazione ancora di più, perché questo ci consente, attraverso la visibilità del nostro territorio, di poter importare le persone che vengono dal centro Italia, dal nord Italia e anche dall'Europa del nord. Noi abbiamo fatto un progetto insieme con il gruppo di aziende nazionale, che sono situati un po' in più d'Italia, ma noi abbiamo riferimento qui a Vene, dove in verità c'è questo aspetto, c'è questa effervescenza di attività, tale per cui il nostro territorio può essere oggetto dell'attenzione e anche della presenza di turisti che vengono da fuori della nostra regione. Ma la cosa più importante, ecco questo vorrei dirlo, non sono cose campate in aria, noi questo già lo stiamo facendo, noi abbiamo già le condizioni per poter mettere le nostre strutture a servizio delle persone agrituristiche che vengono. Quindi è un qualche cosa di estremamente concreto, di palpabile, di percepibile. Allora la possibilità di avere le aziende agrituristiche piccole o grandi che siano e non ha importanza, è quella di poter attraverso queste aziende rendere visibile il nostro prodotto. E attraverso la presenza e attraverso l'albergo dei turisti è possibile far assaggiare i nostri prodotti, metterli sulle nostre tavole, sulle nostre tavole scusate, e fare in modo che pian piano, pian piano, questo nostro prodotto venga via, 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 espanso in tutto il territorio nazionale. Più di quanto non lo fosse adesso. Allora, al piano di accanto a questo, noi abbiamo da completare questo Museo del Negro Amaro, che è stato in verità già iniziato, ha avuto questo inizio nell'amministrazione scorsa, e che certamente noi riteniamo opportuno poter continuare, rendere questo, ecco, un po' collateralmente, come dicevo prima, nella condizione di poter dare la possibilità a chi viene dall'esterno di poter vedere e visualizzare ciò che è la cultura contadina del posto. Noi abbiamo la necessità di poter vendere non solo il nostro prodotto, ma anche la nostra cultura, perché il prodotto è perfettamente legato al nostro target culturale. Allora il Museo del Negro Amaro ha la funzione anche di poter assaggiare i nostri prodotti. Mi è capitato, forse penso che sia capitato anche a molti di voi, di poter uscire fuori dalla Puglia, anche in altre regioni, la cui attività economica è sempre quella legata all'agricoltura o alla pastorizia o all'allevamento. Certamente la possibilità di poter assaggiare, di poter prendere, di poter acquistare questi prodotti, è legata insolubilmente alla cultura del posto. E un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è quello che voi vedete nell'ultimo capoverso, promuovere l'ultima, la promozione e la produzione di poteri di energia rinnovabili. Ecco, vorrei dirvi, non senza presunzione, che il nostro programma di lavoro, che è cominciato un anno fa in verità, non è questa una cosa nuova. Noi ne abbiamo già fatte vedere queste cose e ci appartiene come programma. La possibilità delle fonti rinnovabili rimane per noi un punto di forza. Perché? La possibilità di poter utilizzare le fonti rinnovabili. Mi riferisco soprattutto al fotovoltaico. Rapidissimamente, per chi ancora forse non conoscesse questa fonte alternativa di energia, il fotovoltaico è la possibilità di utilizzare e di trasformare l'energia solare, la luce, in ultima analisi, in energia elettrica. Queste fonti rinnovabili non sono delle strutture tipiche magari che utilizzano le grosse aziende o che magari si trovano in altre parti del nord Italia o del nord o del centro Europa. No, no, assolutamente. I piani per il fotovoltaico e le strutture che vengono utilizzate per il fotovoltaico se Angelo mi dà la foto, grazie. Sono già presenti nel nostro territorio e vi dirò di più. Personalmente, insieme con altri amici, noi abbiamo già contattato, adesso al di là della possibilità di essere in un'amministrazione o altro, ma noi l'abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto e siamo in itinere in questo progetto proprio perché riteniamo di poter giungere ad una sorta di autonomia energetica. Tradotto in soldoni, autonomia energetica significa che nelle nostre case utilizzando l'energia elettrica tramite il fotovoltaico non avremo più necessità di pagare la bolletta della luce. Non pensiate che sia una cosa da poco, anzi, è una possibilità forte di poter ridurre gli esforzi economici che le nostre famiglie hanno e che poi alla fine, insieme con le altre cose, diventano anche un problema di lamentela, anche forte, soprattutto negli ultimi tempi. Allora, questa possibilità del fotovoltaico noi pensiamo, se voi ci deste la fiducia e ci deste la possibilità di poter essere al governo di questo Paese, noi riteniamo che la cosa importante è proprio quella di pian piano, di pianificare una sorta di sistema fotovoltaico anche e soprattutto a livello dei privati, attraverso il contatto con delle agenzie e con la promozione anche attraverso le banche che ci potranno dare la possibilità di questo. Ecco, vi aggiungo, tra parentesi, ma è un dato importante, tutto questo con esforzo zero. Questi proclami non sono assolutamente elettoralistici, ve lo posso assicurare, perché è un qualche cosa che già noi stiamo cominciando a fare e che noi riteniamo possa diventare anche appannaggio della comunità cittadina, di ogni famiglia che, informata, supportata, possa pian piano trasformare la fonte di energia elettrica in fonte alimentativa, gratuita e, come in secondo ordine, non meno importante, la possibilità di poter, come dire, ridurre la CO2 nell'aria. Voi sapete che produrre energia elettrica significa inquinare l'ambiente. insieme a questo la possibilità di poter interferire in quelle che sono le attività tipiche, collaterali, non meno importanti della nostra comunità cittadina. Vi parlo dell'artigianato, delle imprese e del commercio. Sicuramente a queste cose che noi vi stiamo proponendo le imprese hanno una importanza fondamentale, non solo quelle locali, ma anche quelle che noi possiamo naturalmente attirare da fuori. Le imprese che vengono a lavorare da noi potranno avere facilitazione soprattutto se noi gli diamo la possibilità come amministrazione o come amministratori, evidentemente, se diamo la possibilità che l'impresa possa venire, immettersi, produrre posti di lavoro utili per la nostra cittadinanza. Perché questo succeda è necessario che la zona, parlo della zona industriale, evidentemente, possa dare la possibilità e possa avere tutti quei criteri di strutturati e di urbanizzazione tali da poter consentire la presenza delle imprese. Allora, questo significa che tutto ciò che è cominciato adesso ad essere fatto nella zona industriale mi pare di capire sia un qualche cosa soprattutto degli ultimissimi tempi. È un cruccio che mi viene, ma che voglio dire con assoluta onestà. Per molto tempo e forse per tanti anni questa zona è stata veramente molto povera e critica da un punto di vista delle opere strutturali e questo non ha consentito alle imprese di poter strutturarsi e di poter insediarsi. Tutto ciò che quello che si sta potendo fare adesso è successo negli ultimi tempi parallelamente alla presenza della commissaria cittadina. Ecco. Vi accennavo un po' quella che è ragione industriale. Alcune di queste cose, come vi dicevo, sono via via in itinere, altre invece necessitano di assoluto intervento proprio perché si possa migliorare la presenza delle imprese e la venuta delle imprese da fuori. Un altro dato importante è che noi abbiamo conseguito proprio perché abbiamo avuto rapporti con l'Università di Legge particolarmente particolarmente con il il rettore dell'Università di Legge il quale ha dato una disponibilità assoluta affinché nella nostra amministrazione nel momento in cui noi lo chiedessimo l'Università stessa potrà fornirci e potrà darci tutti quegli strumenti che possano consentirci di fare impresa, di fare marketing e di fare un'università serio. Ecco, queste sono immagini che noi abbiamo spulciato un po' dal nostro ambiente, questa è la zona industriale. vi accettavo quello che può essere un po' nella fotogramma che viene dopo l'Università di Legge il rettore stesso è stato veramente straordinariamente disponibile quando ci ha dato la possibilità di poter usufruire delle risorse della cultura e della sapienza anche dell'Università e dei ricercatori per quanto riguarda le nostre progettualità per il futuro del nostro Paese. il secondo piano importante per quanto riguarda il nostro progetto amministrativo è proprio questo la chitera dell'ambiente e del benessere sociale. Un dato importante la raccolta differenziata non è soltanto al di là degli eventi ultimi che si sono evidenziati e che sono ormai un po' oggetto della nostra attenzione la raccolta differenziata di per sé è un qualche cosa che deve investire il nostro territorio. è un dato molto significativo un paese del Sud Salento belbignano in particolare è stato il paese della provincia di Lecce e il paese della provincia di Lecce che fa della raccolta differenziata è un elemento interessante è l'unico paese forse nella provincia di Lecce e non solo capace di fare la raccolta differenziata quasi all'80 al 90% il che significa che tutto ciò che viene raccolto ha la possibilità di essere recuperato con una risposta nei confronti dell'amministrazione dei cittadini anche da un punto di vista premiale che cosa significa questo? Significa che l'amministrazione comunale di un paese dove la raccolta differenziata è stata supportata ed è stata sollecitata in maniera ottimale questo dà la possibilità di poter avere dei ritorni anche economici un dato che voglio mettervi in evidenza è tutto questo questo è stato estratto dalla regione Puglia l'abbiamo tolto da internet questo qui vedete sottolineato nella raccolta differenziata relativa al mese di dicembre 2007 i metalli l'alluminio il rame e anche la frazione umida organica è stata di 0 kg il che significa che la raccolta differenziata per quanto riguarda questi materiali è stata completamente zero cosa significa questo in soldoni significa che questi prodotti probabilmente noi li abbiamo anche eliminati ma le ditte o la ditta che è atta a portare via questi prodotti non ha consentito una sorta di ritorno e di riciclaggio degli stessi questo significa che il comune l'amministrazione guagnava nella sua attespecie ha avuto un ritorno economico negativo noi avremmo potuto avere anche qualche riscontro in più da un punto di vista economico ma questi dati non ce lo consentono allora è chiaro che accanto a questa responsabilità che può essere un po' degli organi competenti un po' delle ditte che supportano questo tipo di attività questo tipo di lavoro la responsabilità dobbiamo dircelo anche nostra allora perché noi impariamo a fare raccolta differenziata non abbiamo solo la necessità di avere due o tre secchi c'è una forte c'è una necessità di fare educazione da questo punto di vista di fare cultura della raccolta differenziata vi accennavo Melpignano Melpignano già circa dieci anni ha fatto questo tipo di lavoro e tutti i cittadini sono stati pian piano educati con solicitudine da parte dell'amministrazione a che la raccolta differenziata venga fatta in maniera ottimale e quel tempo è un po' tiranno ma devo cercare anche di abbreviare la tutela ed il benessere come vi dicevo è un dato importante oltre a quello economico che vanno un po' di palipasso vi accennavo un po' quello che era il fotovoltaico noi abbiamo queste immagini che vi vengono fornite e che ci consente il primo di arrivare come vi accennavo ad una sorta di autonomia energetica ma accanto a questo noi abbiamo necessità di fare del nostro paese anche un ambiente vivibile dove i nostri ragazzi i nostri preadolescenti i nostri giovani possano avere la condizione e la possibilità di esprimere la propria vitalità e anche la propria voglia di cultura è chiaro che questo investe un po' l'aspetto dell'igiene del paese e l'igiene del paese è dato anche da quelli che sono gli aspetti strutturali è molto evidente quando nelle nostre strade noi abbiamo dei manti stradali che vengono completamente erosi anche dopo una semplice pioggia perché questo? questo è chiarissimo il modo di fare il modo di lavorare da parte delle ditte non è certamente il migliore non vengono utilizzati prodotti utili ma soprattutto non si è attenti da parte degli organi competenti a che i lavori vengano fatti a regola d'arte allora questo cosa significa? significa che l'amministrazione deve certamente avere il consenso e il desiderio e la voglia di fare del proprio paese anche in questi aspetti che possono sembrare marginali di fare qualcosa di buono e poi ecco vi accennavo c'è una sorta anche di diseducazione da parte nostra i rifiuti diventano anche un po' il modo e l'immagine del modo di essere è duro questo che vi sto dicendo ma è vero se noi vogliamo fare in modo che il nostro ambiente e il nostro turismo possa crescere è necessario che le persone che vengono da fuori vedano i nostri ambienti nella migliore nel migliore possibile le persone che vengono i nostri ambienti e vedono questi aspetti sicuramente non donano più e insieme con loro ma vi è anche ricchezza un aspetto importante che volevo mettervi in evidenza anche è quello dei servizi sociali diciamo che i servizi sociali in un'amministrazione comunale diventano un po' la cartina torna sole del paese e dell'amministrazione che lo governa le possibilità delle risorse nei confronti della nostra socialità è importante perché ci mette nella condizione di poter interagire con quelle che sono le debolezze e le risorse devono assolutamente essere importanti per quanto riguarda il sollievo delle persone più deboli e soprattutto degli anziani ecco un cenno voglio farlo rapidamente a a questa struttura che deve essere appaltata e quindi dovrà diventare un centro per anziani dove si farà della medicalizzazione e della fisioterapia noi riteniamo e io sono molto convinto di questo che gli anziani soprattutto hanno bisogno di essere supportati e di essere aiutati nel proprio ambiente e questo può essere fatto solo nella misura in cui le persone o le strutture eventualmente cooperativistiche un po' come si fa anche adesso possano entrare nelle case e quindi aiutare l'anziano a vivere nella maniera più decorosa possibile senza relegare l'anziano in strutture già precostituite allora noi riteniamo che più che far questo per i soggetti per i vecchi e per gli anziani sarebbe molto più importante fare in modo di creare di distribuire queste risorse economiche verso persone che appondantemente professionalizzate possano andare nelle case e a domicilio degli anziani per la loro assistenza direi ecco queste immagini sono molto tipiche soggetto anziano sicuramente può essere ben supportato e può essere aiutato in cui noi ci mettiamo a disposizione direi che fondamentalmente il nucleo importante della nostra attività del nostro programma io ecco lo rinchiuderei in un in un concetto importante noi abbiamo necessità di come dire di evitare come dicevo prima che la gente che i giovani si allontanino dai nostri paesi per fare questo ecco bisogna creare una cultura d'impresa e per fare questo è necessario che ogni amministrazione qualsiasi amministrazione sia vicenda nel governo del paese si spenda e favorisca questo un'amministrazione diventa credibile anche quando è capace di fare dei propri introiti anche di quelli legittimamente preordinati di fare anche disponibilità e di rendere disponibili anche le proprie risorse per quelle che è possibile in un'amministrazione comunale allora noi abbiamo pensato che le economie o le risorse possono essere migliorate nel momento in cui ecco abbiamo una riduzione intanto dei membri della giunta comunale io l'ho detto anche in un'intervista che mi era stata data per la gazzetta del mezzogiorno è importante la riduzione della giunta comunale questo significa una riduzione degli esforzi una riduzione del pagamento degli unioni previdenziali degli amministratori inaspettativi inoltre una rimodulazione delle indennità nelle unioni dei comuni e consorsi frenti locali divieto di aumento delle indennità in violazione alle norme sul patto di stabilità e previsione del solo rimborso delle spese voi capite che questo qui rende non solo questo evidentemente ma questo contribuisce a rendere incredibile le persone che costituiscono un'amministrazione ecco un'ultima cosa importante che mi sfuggiva ma fortunatamente è inserito in questa slide la possibilità di poter mettere il comune nella condizione di utilizzare una telefonia a bassissimo costo attraverso questo sistema che è il VoIP cioè voce tramite protocollo internet cioè cosa significa che significa la possibilità di poter telefonare non utilizzando le reti comuni ma utilizzando internet questo significa riduzione delle spese ma che non è soltanto appannaggio del comune o di amministrazione o dei servizi del comune stesso ma è un qualche cosa che può essere anche fatto a livello dello stesso comune o a livello dei privati attraverso una sollecitazione è una cultura che il comune deve assolutamente fare e accanto a questo la democrazia e partecipazione ecco è un po' quella che la ciliegia un po' sulla torta è termino ed è data attraverso questo svolgimento delle assemblee tematiche periodiche aperte a tutti ecco il comune l'amministrazione scende ecco dall'alto in basso perché possa essere gestita e possa essere anche supportata dalla gente bilancio partecipativo la creazione di un periodico comunale che possa dare informazione costante la creazione di una rete civica e una istituzione del difensore civico oltre alla integrazione degli immigrati e diffusione della cultura della pace e dell'accoglienza ecco io mi fermerei qui perché qualcosina ci sarebbe ancora da dire ma mi rendo conto che il tempo via via passa e nel momento in cui poi si parla si ha la difficoltà di poter gestire e controllare il tempo l'ultimissima cosa finisco è appunto questa i programmi possono come accennavo la volta essere scritti possono essere sviluppati anche nella maniera migliore possono essere ben cesellati però alla fine quello che caratterizza la traduzione di un programma in qualche cosa di corposo e di pratico sono le persone che gestiscono i programmi i loro vissuti e le loro storie Angelo mi accennava a quest'ultima slide esattivissimamente ma già la potete vedere un dato importante che è collaterale ai servizi sociali è proprio questo dell'associazionismo e del volontariato lo sviluppo della cultura e quindi come dire l'amplificazione del materiale didattico cartaceo e soprattutto informatico potrebbe certamente se voi ce ne darete la possibilità dare ampi spazi culturali e processi di sviluppo che via via potranno rendere il nostro paese migliore di come grazie